Musica Benvenuti al TG10, l'apertura dal telegiornale, oggi la dedichiamo alla riforma sull'ex provincia verata ieri dall'assemblea regionale siciliana. La regione si è adeguata alla legge del Rio. I sindaci delle città metropolitane saranno scelti con un'elezione di secondo livello. L'assemblea siciliana sceglie una strada impervia per completare la riforma dell'ex provincia approvando un disegno di legge che adegua la Sicilia alla legge del Rio soltanto in tre dei quattro rilievi che erano stati mossi dal Consiglio dei Ministri qualche mese addietro nell'impugnativa di parte della legge che nell'isola ha sciolto gli enti sostituendoli con i liberi consorsi e le tre città metropolitane di Palermo Catani e Messina. Con 33 voti contrari e 29 favorevoli Lars ha bocciato con un voto segreto un emendamento del PD al testo esitato dalla Commissione Affari Istituzionali che segnava di diritto ai sindaci di Palermo, Catani e Messina il ruolo di sindaco delle città metropolitane. In Sicilia dunque il sindaco metropolitano sarà il candidato che otterrà il maggior numero dei voti in un'elezione di secondo livello. Al momento della votazione finale i parlamentari di Forza Italia e PDGS hanno abbandonato l'aula, il Movimento 5 Stelle invece ha votato contro. Il disegno di legge ha ottenuto 38 voti a favore e 19 contrari. Mi auguro, ha detto il Presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone che non ci siano ulteriori impugnative neanche se sollecitate dai sindaci. Ardizione ha richiamato più volte ed in ogni modo, prima e durante la seduta parlamentare, l'Assemblea ad attenersi al rispetto dei quattro rilievi del Consiglio dei Ministri e senza inserire nel testo norme aggiuntive. Ricordiamo inoltre che l'Assemblea regionale siciliana ha dovuto lavorare in un contesto anomalo in quanto il Governo aveva deciso di non appellarsi alla consulta contro l'impugnativa del CDM. Si doveva resistere davanti alla Corte Costituzionale, andare a battere pugni a Roma e non prostrarsi al Governo nazionale che con i suoi tagli è stato il vero carnefice dei siciliani e dei dipendenti delle ex province. Lo dice il Movimento 5 Stelle che, come dicevamo, all'ARS ha detto no alla legge istitutiva dei liberi consorsi. Anche con i correttivi operati, purtroppo, dicono i grillini, non cambierà la situazione dei lavoratori. Il voto del Movimento 5 Stelle ha contribuito a bocciare la coincidenza tra sindaco metropolitano e sindaco del capoluogo. Di tenore diverso, invece, il commento del PD. Abbiamo portato avanti un lavoro responsabile per mettere a regime la riforma che istituisce città metropolitane e liberi consorsi di comuni. Adesso i nuovi enti possono finalmente avere un assetto stabile. I dipendenti hanno le risposte che attendevano e i cittadini potranno avere certezza in merito ad una serie di servizi, fino ad oggi in bilico. Ed intanto, nonostante il piccolo passo in avanti fatto, il comitato Gelensis Populus teme che l'impugnativa non venga rimossa. Vediamo. Belardita, qual è il pensiero che esprime Gelensis Populus sulla riforma varata ieri dall'Assemblea regionale siciliana in merito ai liberi consorsi e alle città metropolitane? Sì, ieri è stata definitivamente votata e quindi approvata la legge 15 2015 nella sua riformulazione a seguito dell'impugnativa governativa. L'impugnativa governativa riguardava quattro punti. L'approvazione di questa legge 15 2015 assorbe tre delle motivazioni di impugnazione del Governo nazionale. Lascia invece fuori una ragione, una criticità, che era quella che riguardava in prima battuta la coincidenza dei sindaci delle città di Catania, Palermo e Messina con i sindaci delle tre aree metropolitane. In maniera molto più pratica, domanda ricorrente. Quando Gela entrerà a far parte della città metropolitana di Catania anche in merito a quello che è accaduto ieri? Allora, in ordine a quello che è accaduto ieri, Sì, sostanzialmente noi temiamo che il fatto che sia rimasta fuori questa ragione di criticità e di impugnativa governativa non faccia demordere il Governo nazionale dall'impugnativa che ricordiamo è ad oggi in atto. Invece, per quanto riguarda il completamento dell'iter di passaggio, nulla a che vedere con quello che si è celebrato ieri all'Assemblea regionale. Nel senso cioè che ancora serve il decreto di giunta che deve a sua volta approdare all'Assemblea regionale. Il decreto di giunta che è quello che sostanzialmente ridisegna i confini. E su questo noi ci aspettiamo assolutamente celerità. Anche perché ricordiamo che tutto l'articolo 44 e quello che era previsto nell'articolo 44 non è mai stato oggetto di impugnativa governativa. Per cui ci aspettiamo assolutamente conseguenzialità in questo senso dal Governo regionale e l'Assemblea regionale non potrà far altro che prenderne semplicemente atto. E questo quando accadrà? Siamo in estremo ritardo perché l'assessore ci aveva detto che sarebbe tutto approdato all'Ars immediatamente dopo l'approvazione della finanziaria. Cosa che ad oggi non è stata fatta e siamo ancora in attesa. La pagina della cronaca giudiziaria c'è anche un dirigente Eni in servizio a Gela tra i cinque arrestati nell'ambito di un'inchiesta sullo smaltimento illecito di rifiuti in Basilicata. Ai domiciliari sono finiti cinque funzionari e dipendenti del centro oli di Vigiano dell'Eni dove viene trattato il petrolio estratto in Valdagri. Un luogo in cui lavorano anche tanti dipendenti Eni di Gela. L'accusa è di attività organizzata per il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti. I carabinieri a Gela hanno condotto ai domiciliari Vincenzo Lisandrelli da un anno responsabile a Gela di sicurezza ed ambiente. Va precisato che l'indagine è tutta concentrata su Vigiano ed il petrolchimico giarese non è coinvolto in nessun modo. L'inchiesta è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Sul tavolo degli inquirenti c'è il tema della corretta qualificazione del reflui che sono il prodotto della componente acquosa separata dal greggio destinato alla raffineria più tutte le sostanze utilizzate per estrarlo e prepararlo all'emissione nell'oleodotto in direzione Taranto. Servivano 16 voti alla giunta comunale giolese per ottenere il via libera dal Consiglio Comunale sull'atto di indirizzo con cui si dà mandato al sindaco Domenico Messinese di promuovere tutte le iniziative che si renderanno necessarie per scongiurare il declassamento del polo industriale e fare in modo che comunque Gela entri nel sistema portuale della Sicilia orientale. E quei 16 voti ieri sono arrivati. Eccola dunque se vogliamo la maggioranza dell'ex sindaco Grillino. Al momento del voto l'aula si è svuotata ma 16 fedelissimi sono rimasti a dire sì. In questo caso hanno detto sì Sara Cavallo, una parte del Partito Democratico con in testa Vincenzo Cirignotta e allo suo fianco Romina Morselli. Reset 4.0, il megafono Forza Italia e Polo Civico. L'idea secondo la quale l'amministrazione comunale di Gela starebbe lavorando per autorizzare ad un consorzio privato la realizzazione della rete idrica nella zona balneare di Manfria non ha mai avuto né mai potrebbe avere l'avallo di Caltacqua Acque di Caltanissetta gestore del servizio idrico integrato per l'intera provincia di Sena. La nota dell'ente gestore è chiara. Pochi giorni di distanza dalla conferenza stampa tenuta al comune e nella quale è stato illustrato il progetto del consorzio Piano Marina che verrà gestito dalla Divina Acquedotti. Il comune, fu detto in quell'occasione, ha concesso le autorizzazioni sulle quali Caltacqua non ha obiettato. La società spagnola, con le stesse somme del finanziamento della regione siciliana, potrebbe acquisire in seguito l'impianto, il cui progetto era sovrapponibile a quello del 2007. Ma Caltacqua, come dicevamo, dice altro. La soluzione prospettata si pone infatti decisamente al di fuori di quanto espressamente previsto dalla Convenzione di gestione con lato idrico CL6 che affida a Caltacqua la gestione dell'intero ciclo delle acque su tutto il territorio provinciale senza dunque prevedere alcuna possibilità di deroga, men che meno offre la possibilità di creare aree dove, come nel caso prospettato, un soggetto si occuperebbe della distribuzione idrica senza alcuna garanzia in ordine alla gestione del reflui e del servizio di depurazione. La società precisa inoltre che le uniche tariffe applicabili all'utenza sono quelle determinate dal lato idrico CL6 in ottemperanza al metodo tariffario emanato dalla competente autorità nazionale e dunque non è possibile, come affermato dal Presidente del Consorzio Piano Marina, applicare ai soli residenti del quartiere di Manfria delle tariffe differenti rispetto alle tariffe che il gestore applica secondo l'articolazione tariffaria vigente e nel rispetto delle norme nazionali a tutti gli utenti della provincia di Caltanissetta, dando luogo a difformi trattamenti nei confronti dell'utenza. Sorprende, aggiunge Caltacqua, che si stia lavorando ad una simile soluzione dopo che nelle scorse settimane si era svolto l'ennesimo incontro tra Caltacqua, Atoidrico CL6 ed Amministrazione Comunale, volto all'individuazione del miglior percorso per superare finalmente quegli ostacoli tuttora esistenti che sin dal 2008 stanno paralizzando il progetto per la realizzazione della nuova condotta di Manfria. Un progetto che Caltacqua ha già pronto da otto anni e da allora è ancora intesa del perfezionamento del leader burocratico da parte del Comune di Gela per l'acquisizione delle aree. Piuttosto che inseguire improbabili soluzioni fai da te, Caltacqua auspica che il Comune di Gela e gli altri enti territoriali direttamente coinvolti diano seguito a quanto era emerso nel corso delle ultime riunioni superando definitivamente quei residui ostacoli a cominciare dall'aggiornamento delle stesse mappe cadastrali di alcune delle aree interessate per sbloccare definitivamente il progetto esistente riguardante la rete idrica e con questo altri interventi. Un esposto in procura per accertare se Comune e Anas hanno fatto tutto il possibile per rendere sicura e o comunque meno pericolosa la statale 115 Gela Manfri a teatro di numerosi incidenti stradali mortali. Lo ha presentato Paolo Capici, presidente dell'Associazione H. Pur se la prudenza a volte non viene mantenuta da scuteristi ed automobilisti, la pericolosità della strada è indubbia. A poco sono servite le bande rumorose, gli incidenti infatti non sono in calo. L'ultimo mortale si è verificato la sera del venerdì santo scorso. E adesso invece occupiamoci dell'iniziativa Le studentesse vogliono contare il mese del STEM organizzata a Gela dalla Soroptimist. Il progetto è del MIUR in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Numerose le giovani gialesi impegnate in progetti di ricerca. Le studentesse vogliono contare il mese delle STEM e l'iniziativa organizzata oggi a Gela dal Soroptimist preseduto da Mare Grazia Falconeri che si è svolta nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo. Il progetto è del MIUR in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. È stata l'occasione per approfondire la conoscenza del territorio locale. L'obiettivo del progetto è quello di coinvolgere le giovani donne stimolando e promuovendo il loro interesse verso le scienze ed accrescendo la loro sicurezza ed autostima rispetto all'apprendimento scientifico. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista Fabiola Polara. Noi riteniamo che le studentesse, le donne, possano affrontare questi studi in maniera egregia e anche immettersi in questo campo per cui abbiamo ritenuto opportuno appunto fare interloquire o far conoscere queste studentesse e le nostre eccellenze gelesi. Sono state scelte quattro testimonial, quattro eccellenze gelesi che si sono affermate nelle professioni scientifiche e proprio per promuovere lo studio delle stesse tra le studentesse. Questo progetto ha una duplice valenza. Uno è quello di favorire l'orientamento delle studentesse, giovani studentesse, all'avvicinamento ad un percorso universitario in ambito scientifico e l'altro è quello di far conoscere a Gela e alle studentesse oggi presenti le eccellenze del nostro territorio. Donne che dopo aver fatto un brillantissimo percorso universitario in ambito scientifico si sono affermate e ricoprono delle cariche importanti e sono l'ingegnere Chiara Cocchiari, la dottoressa Rossella Lucà, la dottoressa Ambra Giglia e la dottoressa Angela Palumbo. Non c'è nella scelta di un'attività di lavoro il genere maschile e il genere femminile. Le potenzialità sono, le ultime statistiche ce lo dimostrano, non si può dare una spiegazione biologica alla scelta di un settore, bensì ci portiamo molto della cultura, fin dai giocattoli che vengono proposti ai bambini già si dà un orientamento e proprio tendiamo a superare questo e alla valorizzazione della persona indipendentemente dal genere. Questo progetto è stato una sfida, siamo riusciti con facilità a creare il contenitore perché le risorse umane fortunatamente già sono nel nostro territorio e pertanto è stato un onore così introdurre queste giovani nel nostro sistema. La sezione gelese di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale lancia la proposta della bottega del Baratto oggetti surrogati con alimenti. L'idea di Gatano Minardi, Orazio Caiola e Francesco Agati è quella di una gestione innovativa della raccolta differenziata che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. Il modello operativo è stato elaborato, sperimentato, testato sul campo e sostenuto a livello nazionale da libera ambiente. Rappresenta, se vogliamo, un'innovativa attività imprenditoriale che partendo dal basso riesce a coniugare imprenditoria e sviluppo sostenibile per giovani imprenditori. Un originale ed accattivante green business che si rivolge soprattutto ai giovani gelesi e che alimenta il sentimento ecologico delle future generazioni. Un luogo dove si educa ad una selezione di qualità dei materiali da dismettere e dove si provvede nel contempo ad una valorizzazione immediata e tangibile degli stessi. Il cittadino, in sostanza, che deve liberarsi di un oggetto invece di gettarlo, lo può portare nei centri di raccolta ecologici distribuiti in quattro aree in città barattandolo con generi di prima necessità provenienti dalla produzione agricola locale. Cigelle e Cisle Will della provincia di Caltanissetta aderiscono e promuovono in ambito provinciale l'iniziativa di mobilitazione che porterà centinaia di lavoratori, giovani, pensionati e studenti dinanzi alla pretettura di Caltanissetta sabato 2 aprile alle 9.30. Il sindacato confederale chiede l'immediata modifica della legge Monti Fornero per ridare certezza alle lavoratrici ed ai lavoratori giovani e meno giovani dando proprio a loro opportunità occupazionali sbloccando il mercato del lavoro e garantendo un futuro previdenziale. Ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale Gela, topografia e urbanistica della città greca e il tema della conferenza che si terrà sabato 2 aprile alle 18 nell'ex chiesetta di San Biagio promossa dall'associazione Archeo Ambiente preseduta da Giuseppe Andrea Alessi relazionerà grazie a Spagnolo archeologa presso l'Università di Messina. Il Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia sta organizzando per domenica 3 aprile la festa della Divina Misericordia nella parrocchia del Carmine di Gela. Alle 15 si terrà l'adorazione eucaristica e alle 16 la celebrazione eucaristica preseduta da Don Giuseppe D'Aleo vicario episcopale per il laicato. seguirà la via Lucis con il pellegrinaggio giubilare verso la Porta Santa nei locali della piccola casa della Misericordia. Un viaggio attraverso alcune delle bellezze architettoniche della Sicilia e delle opere artistiche di ogni epoca alla scoperta di forme, volumi e materiali da compiere attraverso il tatto e la vista. È il museo Tattire che oggi ha fatto tappa a Gela su iniziativa della sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti. C'era anche il giardino sensoriale ed il bar al buio. Un vero e proprio polo tattile itinerante. Una giornata di sensibilizzazione, condivisione e conoscenza sul mondo della città che mira a divulgare il messaggio di integrazione possibile tra vedenti e non vedenti. Di solito le arti non si possono toccare ma si possono solo guardare. Oggi è rigoroso toccare con mano perché abbiamo delle arti che i non vedenti, magari che ne so, un monumento che magari immaginavano è riportato in rilievo e quindi diamo la possibilità ai non vedenti di poter toccare con mano una scultura o qualcosa e farsi una propria idea. Quindi dare alla gente, far capire che i non vedenti non hanno limiti, possono arrivare ovunque con le mani. Giriamo tutta l'Italia proprio a divulgare e a far capire alla gente qual è il mondo dei non vedenti proprio per far sensibilizzare la gente che i non vedenti non sono più quelli di una volta ma oggi sono abbastanza emancipati. Il motto è vietato non toccare nel senso che qui si deve toccare tutto si deve esplorare. Noi incentiviamo intanto una giornata di sensibilizzazione di condivisione e soprattutto di scoperta del mondo della disabilità visiva perché c'è purtroppo poca conoscenza. Abbiamo invitato tutti le istituzioni, le scuole ma soprattutto le scuole perché ogni ragazzo potrebbe avere a fianco un ragazzino con la disabilità visiva quindi conoscere i materiali didattici conoscere anche gli ausili che utono il non vedente nella vita quotidiana è importantissimo. All'iniziativa di oggi hanno preso parte numerosi studenti. All'inizio ho avuto un pochino di paura perché mi tiravano non sapevo dove dovevo andare poi però alla fine è stato bello perché ho capito veramente cosa si prove le emozioni anche che si possono vivere in quel momento e quindi che si devono utilizzare cioè la vista non è per forza fondamentale ma quindi dobbiamo anche utilizzare gli altri sensi. Resita al pianistico del gelese Alberto Ferro al fine di sostenere il progetto Music Lab per la scuola appuntamento previsto per domenica 17 aprile alle 19.30 al teatro comunale Eschilo su iniziativa dell'associazione Perfetta Letizia preseduta da Giuseppe Failla il costo del biglietto è di 10 euro il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 e ora parliamo di calcio con le ultime notizie in casa Gela Prosegue speditamente la premendita dei biglietti per assistere alla partita Gela-Castelbuono che si disputerà domenica con l'inizio previsto alle 16 al Vincenzo Presti che potrebbe rappresentare la pietra miliare per la promozione diretta in Serie D del club bianco-azzurro ancora una volta così come era successo nella precedente gara casalinga del Gela la dirigenza capitanata dal presidente Angelo Tuccio ha puntato tutto sulla sensibilizzazione verso i più giovani a recarsi allo stadio per sostenere la squadra della propria città ed in quest'ottica si inquadra la decisione della società di permettere l'ingresso gratuito a tutti i bambini fino agli 11 anni mentre pagheranno appena un euro tutti gli studenti dalle scuole medie e superiori della città che acquisteranno il tagliando presso le scuole di appartenenza dove degli addetti del Gela Calcio si stanno recando in questi giorni prezzi invariati invece per gli adulti che pagheranno 8 euro in tribuna coperta e 5 euro in curva mentre per le donne il costo del biglietto è di 5 euro in tribuna coperta e 3 euro in curva chi si accomoderà in gradinata riservata ai tifosi ospiti pagherà 8 euro la partita di domenica prossima terzo ultimo turno della stagione regolare in eccellenza potrebbe riservare qualche straordinaria sorpresa il Gela intanto dovrà far suo il bottino in pario e lo abbiamo detto già in altre circostanze non sarà proprio una passeggiata di piacere considerato che il Castelbuono dello squalificato Mister Salvoricca è una squadra che gioca un buon calcio ed ambisce ai playoff ma se da Grotte dove sarà impegnata la vice capolista sancataldese dovesse arrivare qualche notizia imprevista in questo caso un mancato successo di Verde Maranto allora la giornata potrebbe colorarsi ancora di più di Biancazzurro ma intanto il Gela lo ribadiamo è chiamato a centrare la sesta vittoria di fila c'è la pagina dello spettacolo in chiusura del telegiornale e la macchinazione chi ha ucciso Pasolini il film in programmazione al cineteatro Antitodo di Macchitella a Gela sono tre gli orari 17.30 19.30 e 21.30 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni a Gela 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 a Gela